Calamai Romo-Lisciani, ovvero la rema della Sancat, le menti pronte per il torneo Tomasino-Bacciotti. Iniziamo da Tommy, una nuova edizione sempre più piena di qualità, sempre più organizzata. Speriamo, ci auguriamo, abbiamo lavorato per questo e speriamo di aver fatto tutto quello che c'era da fare. Ci sono venute in mente ogni giorno anche cose nuove per cercare un po' di rinnovarci al di là della classica organizzazione e di quello che c'è da fare. Speriamo, ci aspettiamo una bella edizione come lo è stata l'ultima, come sono state sempre tutte le edizioni del Bacciotti. Speriamo di riuscire a fare qualcosa in più. Allora Marco, invece chiediamo di sdoppiarsi così siamo più vicini, 60 partite in tanti impianti fiorentini. Ci parli un po' più nel dettaglio anche con l'aiuto di Antonio per capire un po' che torneo sarà. Un torneo di altissimo livello, 60 gare, distribuite su 5-6 impianti. Quindi si ringrazia a particolar modo tutti i presidenti delle varie società, tra cui il presidente Avellini per il baloncesto, il presidente Casini per le Siesci, il presidente Zanardo per l'Africo. E naturalmente PWM nella qualità di Casucci e Vannini. E tutti coloro che daranno una mano, si ringrazia anche Ricci per la Florence. Tutti coloro che daranno una mano, veramente sono nostri partner da molto tempo, nostri collaboratori. È stato fatto un grande lavoro anche di reclutamento squadre e proprio per avere un livello molto molto alto anche a livello tecnico. Comunque sarà la festa della Sankat e quindi ogni risultato, il risultato migliore sarà quello appunto di avere 300-350 bambini soddisfatti, le loro famiglie dopo questi tre giorni, sia da un punto di vista scestistico che sociale. Allora, Tommasino, insomma, equivale comunque a un ricordo di un giovane, di un bambino che è stato sfortunatoci anche da trasmettere un messaggio ai ragazzi, no? Un messaggio di gioia, di solidarietà e c'è anche questo contenuto qui nel torneo. Certo, c'è anche questo contenuto qui. Infatti noi durante tutta la stagione, come Sankat, mettiamo la passione al primo posto, passione verso lo sport, verso i ragazzi, verso la beneficenza, mettiamo passione in tutto quello che facciamo dagli allenamenti, le partite, i tornei in cui siamo invitati e quindi questo sarà anche il torneo della passione per la beneficenza e siamo felicissimi di essere al nono anno con questo torneo.